Cari amici, abbiamo alle spalle una settimana di tormenti dal punto di vista politico, qualche rapida considerazione sulla vicenda della crisi di governo del nostro Paese e poi veniamo ai problemi che ci riguardano più da vicino, vaccini, scuole, opere pubbliche. Intanto una grande soddisfazione è legata all'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Siamo passati da un personaggio che rappresentava la cafoneria al potere a una personalità politica come Biden, di grande civiltà, di grande esperienza, di grande competenza politica che ci auguriamo possa diffondere nel mondo un clima di responsabilità e di minore tensione. Le prime decisioni prese a Biden sono di straordinario valore, a cominciare dal ritorno degli Stati Uniti nell'ambito di accordi di Parigi per quanto riguarda le questioni climatiche. Bene così, ci auguriamo anche che nei confronti dell'Europa si ristabilisca un rapporto di cordialità, di amicizia, diversamente da come era stato con il suo predecessore. Soprattutto che termini la battaglia sui dazzi rispetto ai prodotti soprattutto del nostro Paese e della nostra agricoltura. Poi abbiamo avuto la vicenda che riguarda il governo Conte e soprattutto abbiamo assistito ad uno spettacolo è difficile trovare gli aggettivi appropriati, diciamo ad uno spettacolo nel dibattito al Senato che ha riguardato la fiducia al governo. Ora io credo che se noi volessimo ragionare su quello che abbiamo visto saremmo obbligati a cadere in depressione, una depressione nera. Sulla base di quello che abbiamo visto si conferma quello che ho ripetuto parecchie volte, che la riforma più urgente nel nostro Paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi. Io credo però che noi facciamo un errore di fondo quando assistiamo le vicende politiche nazionali. L'errore di fondo è immaginare di confrontare l'Italia con gli altri Paesi avanzati, la Germania, la Francia, il Giappone, la Sud Corea. È chiaro che se guardiamo le vicende italiane confrontandole con quelle di altri Paesi, cadiamo in depressione. Il nostro termine di paragone non sono le grandi democrazie, ma sono le attività dei circhi equestri. Il nostro termine di paragone è il circo du soleil. Se cominciamo a guardare le nostre vicende in questi termini vedrete che ci rassereniamo. Abbiamo visto al Senato saltimbanchi, acrobati, due giovanotti che erano andati a farsi un giro per Roma e sono tornati a votare dopo che erano scaduti i termini. La Presidente del Senato Casellati ha dichiarato chiuse le votazioni, poi le ha dichiarate socchiuse, poi le ha dichiarate riaperte. È uno spettacolo meraviglioso, meraviglioso. Se noi ci confrontiamo con il Circo du Soleil siamo largamente vincitori. Questa è la verità. Come finirà questa vicenda? Comunque vada la crisi, finirà male. Finirà male sia nel caso che andiamo ad elezioni anticipate, sia nel caso che si trascini questo lungo calvario. Perché dal punto di vista dell'efficienza operativa noi avremo un danno enorme. Finirà male. Noi siamo un Paese che finché non va a sbattere con la testa contro il muro non ritrova il senso di responsabilità, l'equilibrio, l'unità nazionale e anche i livelli indispensabili di efficienza. Allora non perdiamo tempo, non ci facciamo prendere da queste vicende. L'Italia andrà avanti per i fatti suoi. Finché, ripeto, non ci faremo male, allora ritroveremo il senso di responsabilità necessario. Venendo a noi, abbiamo affrontato due grandi questioni nei giorni scorsi e ancora in queste ore. La prima questione è quella relativa la distribuzione dei vaccini. Facciamo un passo indietro. Che cosa è avvenuto in Italia? Il governo ha fatto un piano di distribuzione dei vaccini fra le regioni che noi abbiamo contestato dall'inizio, perché lo abbiamo considerato un piano assolutamente squilibrato e penalizzante per la regione Campania. Il piano approvato dal governo era rapportato a due parametri. Il primo, il numero di dipendenti nelle strutture sanitarie. Il secondo, il numero di anziani ospitati nelle residenze sanitarie assistite. Questi, teoricamente, erano i due punti di riferimento che hanno motivato il piano di distribuzione dei vaccini. Le motivazioni che ci hanno dato sono motivazioni inaccettabili e totalmente sbagliate, false. Intanto perché se avessimo voluto distribuire i vaccini sulla base del numero dei dipendenti nella sanità, non avremmo avuto certamente gli squilibri di decine di migliaia di vaccini che abbiamo registrato. Secondo, perché quando si dice abbiamo misurato il numero dei vaccini sul numero di residenze sanitarie assistite, anche questo è un ragionamento bizzarro. Ci sono regioni che hanno molte più residenze sanitarie assistite della Campania, per ragioni storiche, perché veniamo a dieci anni di commissariamento. Ma avere il doppio di residenze sanitarie assistite non significa che hai il doppio di anziani. Cioè non è che gli anziani che non sono ospitati nelle RSA sono scomparsi, sono presenti, sono in vita e in qualche caso hanno condizioni di vita anche di maggiore sofferenza rispetto a chi è ospitato e curato nelle RSA. Dunque i presupposti del piano generale di distribuzione dei vaccini sono profondamente sbagliati. Tutto quello che è venuto dopo è rapportato a quel piano. E così la conseguenza di queste ore sarebbe la seguente. Che cioè nella distribuzione dei vaccini per questa e la prossima settimana noi ci troviamo di fronte a questa situazione. Campania 135.000 vaccini, tenendo conto di una diminuzione del 10% conseguente al mancato arrivo da parte di Pfizer. Campania 135.000 vaccini, Emilia Romagna 183.000 vaccini, 50.000 più della Campania. Lazio 179.000 vaccini, 45.000 più della Campania. L'Emilia Romagna un milione e 300.000 abitanti in meno della Campania. In Lazio la stessa popolazione. Lombardia 304.000 vaccini rispetto ai nostri 135.000. Cioè 265.000 vaccini più di noi. Piemonte 170.000 vaccini rispetto ai nostri 130.000. Il Piemonte ha un milione e mezzo di abitanti, meno della Campania. Veneto 164.000 vaccini, cioè 30.000 più della Campania. Allora, per cortesia, nessuno mi dica che stiamo rispettando criteri oggettivi. Abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini. Lo abbiamo denunciato. Abbiamo chiesto un riequilibrio che ancora non è avvenuto. Ancora in queste ore stiamo discutendo con il commissario Arcuri su come garantire alla regione Campania la copertura delle seconde vaccinazioni, dei richiami. Qualcuno ha detto, sbagliando e in maniera provocatoria, che la regione Campania non ha accumulato le scorte. Questa è un'idiozia. Perché se noi abbiamo una sottodotazione di vaccini, che scorte devo accumulare se non ho neanche l'indispensabile per coprire la domanda essenziale? Allora è arrivato il tempo di fare un'operazione verità e di farla finita con le manfrine. Altrimenti, come abbiamo comunicato, avremo modo di tutelarci in tutte le sedi e arriveremo a chiedere la invalidazione del piano di distribuzione approvato 20 giorni fa. Questo è tutto. Mi auguro che prevalga il buonsenso e soprattutto la correttezza da parte di tutti. Dobbiamo arrivare alla fine ad un criterio uguale per ogni cittadino di questo Paese. Un vaccino per ogni cittadino italiano. Punto. Questo è l'unico criterio serio, corretto, civile. Noi completeremo per il mese di gennaio e per i primi giorni di febbraio, se abbiamo quello che ci manca, le somministrazioni della seconda dose. Dopodiché, questo ci è stato annunciato in queste ore, da inizio febbraio dovrebbe cominciare in Italia la distribuzione dei vaccini sulla base della popolazione residente nelle diverse regioni. E quindi dovrebbe essere operato un recupero a nostro vantaggio rispetto a quello che ci è stato sottratto. Quindi non ci fanno nessun regalo, fanno la metà del loro dovere se dal primo febbraio riequilibriamo, recuperando quello che non abbiamo avuto e ottenendo quello che è giusto avere semplicemente in base al numero degli abitanti. Credo che sia un criterio assolutamente incontestabile. Qual è il nostro obiettivo? Quello che vi abbiamo comunicato. Noi intendiamo completare la vaccinazione di tutta la popolazione campana entro il 2021. Dico entro il 2021 presupponendo ovviamente l'arrivo dei vaccini e mantenendoci con una soglia di sicurezza. Stiamo lavorando in queste ore per attrezzare su tutta la regione per la fase 2, cioè per il mese di marzo quando cominceremo la vaccinazione di massa per tutti i cittadini. stiamo attrezzando 140-150 punti di somministrazione dei vaccini. L'obiettivo è di arrivare, devo correggere la cifra finale, a vaccinare 4 milioni 600 mila cittadini campani. Se i vaccini a disposizione sono quelli che abbiamo, ma anche nel caso di AstraZeneca se viene autorizzato, noi dobbiamo fare la doppia somministrazione. Quindi stiamo parlando di cifre imponenti di cittadini che vanno vaccinati. Quando parli di 8 milioni e mezzo, 9 milioni di persone da vaccinare, di vaccini da somministrare, è chiaro che parli di uno sforzo organizzativo gigantesco e di una operazione di carattere, come dire, militare, se vogliamo arrivare all'obiettivo. Ma questo è quello che abbiamo deciso di fare, se avremo i vaccini. Quindi noi dovremo avere entro l'estate la disponibilità di almeno 9 milioni di dosi di vaccino. Siamo a 135 mila oggi. A noi basta semplicemente avere le dosi di vaccino rapportate alla nostra popolazione. Niente di ma anche niente di meno. Poi sarà nostra responsabilità darci un'organizzazione tale da raggiungere l'obiettivo di vaccinare tutta la nostra popolazione. Ma è chiaro che dobbiamo cominciare fra fine febbraio e inizio marzo a vaccinare tutti. A vaccinare tutti. L'obiettivo ovviamente è di fare fra 55 mila e 60 mila vaccinazioni al giorno. 55 mila, 60 mila vaccinazioni al giorno. È uno sforzo gigantesco. Ma non abbiamo alternative. E parliamoci con grande chiarezza. Finché non avremo vaccinato la popolazione, saremo sempre su un terreno accidentato. Non avremo mai la tranquillità né per la ripresa delle attività economiche, né per la ripresa delle attività scolastiche, né per la ripresa delle attività culturali, né per il turismo. Avremo la prosecuzione di questo calvario, finché non avremo fatto la vaccinazione per i nostri concittadini. Siamo impegnati all'ultimo respiro, su questo piano. Vaccinare tutti. È una guerra, come potete immaginare. Dobbiamo guardarci le spalle. Ma dobbiamo anche combattere quando ci troviamo in fronte a operazioni non corrette, a danno della nostra regione. Per le scuole noi avevamo un obiettivo che vi avevo comunicato qualche giorno fa. Mentre la valorosa ministra Zolina continuava a ripetere che noi apriremo tutte le scuole il 7 gennaio, la regione Campania, insieme con la stragrande maggioranza delle regioni, ha preso un'altra decisione. E cioè noi riapriamo le scuole sulla base di una valutazione dello stato dell'epidemia e dunque delle condizioni di sicurezza da garantire per gli alunni, per il personale scolastico e per le famiglie. Perché così si ragiona da persone serie. Dunque avevamo l'obiettivo di scavallare il mese di gennaio. Perché avevamo il dovere di verificare se l'epidemia a due o tre settimane dal periodo festivo di Natale-Capodanno riprendeva oppure si manteneva in proporzioni controllabili. Questo era il motivo. Non c'era nessuna particolare malvagità quando abbiamo deciso di prenderci il mese di gennaio. Siamo arrivati fondamentalmente a raggiungere il nostro obiettivo. Ricorsi al TAR, al di là di qualche stupidaggine che è stata raccontata sulla sentenza del TAR. Il 25 dovrebbero riaprire le scuole primarie come avevamo previsto. Ovviamente lasciamo sempre un margine di discrezione alle amministrazioni comunali e subordiniamo sempre tutto alle condizioni sanitarie vere. Poi, questo dice la sentenza del TAR, dal primo febbraio cominciamo le attività nelle secondarie inferiori e superiori. Bene, era esattamente quello che volevamo ottenere. Nel frattempo abbiamo lavorato ovviamente per potenziare il trasporto. Abbiamo da questo punto di vista una situazione buona. Poi dobbiamo ragionare sugli orari, ma questa è responsabilità anche dei dirigenti scolastici. Per quanto riguarda i dati sanitari, tanto per capire di che cosa stiamo parlando, quando fanno i ricorsi contro la didattica a distanza, una delle cose che mi colpiscono è che chi fa questi ricorsi li fa prescindendo completamente dall'epidemia. cioè fanno ricorsi come se l'epidemia non esistesse. Ma pensate che non siamo consapevoli dei problemi che si determinano anche con la didattica a distanza. Qualcuno può immaginare questo. quello che davvero considero sconcertante è non riuscire a tenere presenti i due elementi. La necessità di riprendere l'attività scolastica, che è un'esigenza vera, ma la necessità di contemporare questa esigenza con i dati dell'epidemia, cioè con la necessità di garantire la sicurezza. o no, o non è un problema questo. I dati che ci sono, vi do solo alcuni piccoli dati che riguardano l'Asla Napoli 1, Napoli 2. Nella Napoli 2, alla scuola paritaria Gargiulo, abbiamo un alunno positivo, abbiamo isolato 22 alunni e 3 docenti. La scuola per l'infanzia Marconi, un alunno positivo, isolati 16 alunni e 3 docenti. Un positivo alla Castaldo Nosengo, un positivo ancora non noto. Quando c'è un positivo, un ragazzo positivo, un docente positivo in una classe, noi dobbiamo mettere in quarantena tutta la classe, ovviamente, ricostruire la rete dei contatti. Ci sono regioni in Italia che quando c'è un positivo in una classe chiudono tutto l'istituto. È chiaro di che stiamo parlando. Giuliano, un altro esempio. Quinto circolo, 5 alunni positivi e un docente positivo. Sono stati isolati 13 alunni e 3 operatori. Al settimo circolo, un alunno positivo, isolati 10 alunni e 4 operatori. All'ottavo circolo, un alunno positivo, isolati 11 alunni e 3 operatori. Quando parliamo di scuola, noi partiamo innanzitutto da queste situazioni, che abbiamo il dovere di conoscere e di controllare se vogliamo essere persone responsabili. Napoli 1, centro nel distretto sanitario di base numero 24, Chiaia, San Ferdinando, Posillipo. Abbiamo ad oggi due studenti della scuola primaria positivi. I contatti stretti dello studente sono 19. I contatti stretti in ambito scolastico, quindi oltre a propria classe, sono altri 12. I contatti familiari, due. Distretto sanitario 25, Bagnoli fuori grotta, due studenti della scuola primaria, risultati positivi. I contatti scolastici dei due positivi sono 26, quindi dobbiamo controllare tutti e 26. I contatti familiari sono due. Distretto sanitario 27, Arenella Vomero, due studenti positivi, sono due fratelli. Contatti scolastici dello studente numero 1, 21. Contatti scolastici dello studente positivo numero 2, 16. Contatti familiari 2. Ora, quando parliamo di scuola parliamo di questo. Mentre siamo impegnati a fare i tamponi, mentre siamo impegnati a fare le vaccinazioni, dobbiamo controllare che nelle scuole non si accendano focolai, perché se no, non solo non riprendiamo la didattica dentro le scuole, ma alla fine siamo costretti a chiudere tutti gli istituti, non una classe. È chiaro di che cosa parliamo. Allora, noi abbiamo preso il mese di gennaio, quindi lo ripeto, per le superiori di secondo grado le scuole aprono il primo febbraio, per poter avviare anche lo screening sul personale scolastico. Abbiamo raggiunto nei giorni scorsi un accordo con i medici di medicina generale per fare i tamponi antigenici rapidi per verificare se il personale scolastico racchiude positivi o meno, quindi per dare sicurezza agli alunni, ai docenti, alle famiglie. Abbiamo fatto l'accordo con i medici di medicina generale perché altrimenti questi controlli è impossibile farli, perché o fai i vaccini e i tamponi oppure fai questi controlli. Credo che domani ci sarà un'unione con i medici di medicina generale per decidere come operativamente facciamo questi controlli. Abbiamo più di 300.000 test rapidi da utilizzare. La cosa ottimale sarebbe poter avere l'aiuto dei medici di medicina generale per fare i controlli dentro le scuole. È la cosa più semplice. Altrimenti dovremmo chiedere al personale scolastico. Parliamo sempre di cose volontarie. Non abbiamo la possibilità di obbligare ovviamente il personale ad andare magari a fare i test presso i distretti. Allora, se Dio vorrà e se avremo la collaborazione ai medici di medicina generale e riuscissimo a fare questi test dentro le scuole, sarebbe per noi un grandissimo aiuto e potremmo riaprire l'attività scolastica dentro le scuole dal primo febbraio in una condizione di maggiore serenità per noi, per gli alunni, per le famiglie. questo è il lavoro che stiamo facendo. Vi terremo informati ovviamente sulla evoluzione di questa attività nei prossimi giorni. Ma mi pareva opportuno richiamare questo tema della scuola perché ogni volta ricorso al tar contro la didattica, come se qualcuno si divertisse a tenere le bambine e i bambini a casa. E' come se non fossimo obbligati tutti quanti a fare i conti con una esigenza. Evitare che si accendano focolai di infezione dentro le scuole. Perché poi, se questo succede, gli alunni diventano il principale vettore di trasmissione del contagio nelle famiglie e quindi nelle comunità. Anche quando i ragazzi magari sono portatori sani. Ma il portatore sano il contagio lo trasmette, non è che non lo trasmette. Qualche notizia più leggera. Stiamo lavorando ovviamente anche su altri campi. E' entrato in funzione un nuovo treno ROC di Trenitalia per i pendolari. Mi è arrivato un comunicato e l'associazione Pendolari Sannio Terra di Lavoro che ci ringraziano perché è entrato in funzione questo nuovo treno bellissimo sulla tratta Napoli-Caserta-Roma. Questa mattina credo 500 pendolari hanno potuto godere questo nuovo treno. Proseguiremo nella prossima settimana con l'inaugurazione di un altro treno nuovo. Va avanti il lavoro che ci siamo impegnati a fare per ammodernare tutto il sistema di trasporto su ferro e su gomma. Innanzitutto per i nostri pendolari. Nel frattempo abbiamo avuto notizie belle e iniziative interessanti. La notizia bella riguarda il riconoscimento per Procida, capitale della cultura del nostro Paese per il 2022. Dovremo fare in modo ovviamente che questo diventi un'occasione di promozione non solo dell'isola di Procida ma di promozione di tutto il nostro territorio. A cominciare ovviamente da Ischia, da Pozzuoli, dai campi flegrei, dalle tante incomparabili bellezze che dobbiamo promuovere nel nostro territorio e dobbiamo fare in modo che questo diventi un'occasione di promozione turistica per recuperare i colpi che abbiamo ricevuto da questi mesi drammatici di pandemia. Sono ripartiti i lavori del Policlinico di Caserta, uno dei più grandi cantieri dell'Italia meridionale. Abbiamo inaugurato sabato scorso questo cantiere che riapre con il rettore della vanvitelli, la vanvitelli e stazione appaltante e abbiamo riconfermato l'impegno della regione campania per altri 50 milioni di euro per le attrezzature e le tecnologie. Partono credo lunedì lavori per realizzare nuove reti fognarie a nocera inferiore. Parlavamo prima di Procida, Capitale della Cultura, abbiamo deciso l'apertura di musei e luoghi d'arte del circuito del Polo Museale della Campania e di avere ingressi gratuiti fino alla fine del mese per incentivare la visita a questi luoghi. Visite gratuite dunque per tutto il mese alla Certose al Museo di San Martino a Napoli, al Museo archeologico dell'antica Capua, Museo archeologico nazionale di Ponte Cagnano, alla Certosa di San Lorenzo a Padula, al Teatro Romano di Benevento, al Mav di Portici. Se Dio vuole riprendiamo lentamente a vivere e la cultura ovviamente è vita. Non abbiamo ancora la situazione del tutto tranquilla. Sui dati di ieri, di questa mattina, noi abbiamo un tasso di positivi che oscilla fra il 7 e l'8% delle persone a cui facciamo i tamponi. Credo ieri questa mattina più o meno 14-15 mila tamponi, un 8% positivi, più o meno la stessa percentuale sui tamponi fatti a laboratori privati. Per avere una situazione di tranquillità dobbiamo scendere al 5% di positivi. Quando abbiamo ancora mille, mille e duecento positivi vuol dire che dobbiamo stare attenti e che stiamo camminando sul filo del rasoio. La Campania è in zona gialla. Non si sarebbe detto, pensando alle tante, troppe campagne di sciacallaggio mediatico di questi mesi. Vi ricordate ogni settimana? Stranamente è la Campania che sulla base di quelle trasmissioni doveva essere il Bangladesh è in zona gialla. Diciamo fra le regioni virtuose. Come sempre dico ai nostri concittadini? Nessun autocompiacimento. Chi se ne frega della zona gialla? Noi dobbiamo essere più attenti degli altri. Perché, ve lo ripeto, abbiamo ancora ogni giorno 900, 1000, 1200 positivi. Quindi nessun rilassamento finché non avremo completato la campagna di vaccinazione. Intanto abbiamo avuto un qualche alleggerimento. Dobbiamo essere intelligenti e responsabili. Cogliamo l'elemento positivo che c'è nel fatto che siamo in zona gialla, ma non per rilassarci, ma per avere tutte le forme di prudenza e di prevenzione necessarie per non tornare ad essere zona a rischio. Non ci vuole niente. Cerchiamo di non fare i fenomeni e cerchiamo di rispettare, come dire, le regole di base della prevenzione. Voglio rivolgere un saluto affettuoso al Cardinale Sepe che domenica prossima celebra messa, l'ultima da Cardinale di Napoli e prima che martedì 2 faccia il suo ingresso come nuovo Arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, a cui auguriamo ovviamente buon lavoro per i prossimi anni. ci tenevo tuttavia a rivolgere un saluto affettuoso a nome mio e a nome di tutti i cittadini della nostra regione al Cardinale Sepe che ringrazio ovviamente per la sua attività pastorale e per il suo impegno civile di questi anni. E gli faccio ovviamente migliori auguri per un futuro di serenità. Rinnovo in conclusione a tutti i nostri concittadini l'appello di sempre. Aiutateci a governare i problemi e a superarli. L'obiettivo che abbiamo davanti è ambizioso ma non abbiamo alternative. Dobbiamo vaccinare tutta la regione in pochi mesi e sicuramente entro il 2021 per uscire da questa condizione di sofferenza, di sofferenza e di pesantezza anche sociale oltre che sanitaria. Dal punto di vista sanitario continuiamo ad avere una situazione di buona tenuta per quanto riguarda le terapie intensive siamo ampiamente dentro la soglia di sicurezza. Non si direbbe, pensando alle tante trasmissioni televisive, quante ore sprecate nel video. Siamo fra le regioni migliori d'Italia per le presenze in terapia intensiva. Siamo quasi sempre sotto i 100 posti occupati rispetto ai 640 disponibili. Buona tenuta per le terapie intensive, per i ricoveri ospedalieri. Questi dati ci devono dare sicurezza, ci devono dare serenità ma devono ricordarci sempre il dovere della prudenza e della prevenzione. Uso della mascherina sempre, lavaggio delle mani sempre, evitare assembramenti. Quando si parla da vicino, mascherina sulla bocca e sul naso. Se saremo semplicemente prudenti vedrete che imboccheremo la strada della fuoriuscita da questa epidemia. Un saluto cordiale a tutti quanti voi e alle vostre famiglie. Grazie a tutti.